Universal Café, step fondamentali di oltre 50 anni di successi in questo segmento che oggi è determinante per l'identità dell'italiano e non solo. In effetti la nostra azienda ha una lunga storia, nata nel 1963, sono quindi oltre 50 anni che siamo ovviamente nel settore della torrefazione. Come tante aziende fondate da una famiglia, nel caso specifico da Raffaele Camiscia che è stato il fondatore di questa azienda, negli anni ovviamente si è trasformata ed è diventata industria, ma non trascurando mai ovviamente quella che è la tradizione e la cultura del buon caffè. Ci siamo dovuti strutturare, organizzare ed oggi crediamo di aver raggiunto un buon traguardo, ne abbiamo ancora tanti da raggiungere, con una fabbrica importante, con della tecnologia, ma ripeto, senza mai dimenticare la storia e la tradizione. Un'azienda deve sempre tenere bene a mente dove vuole andare. Il nostro focus da sempre è stato fare un prodotto di qualità. Sembra scontato ciò che dico, lo dicono in tanti, noi crediamo di farla davvero, ma perché siamo noi i primi che amiamo a fare le cose fatte bene. Il nostro focus ovviamente è Oreca, quindi la nostra azienda tendenzialmente produce linee di prodotto e di alta gamma dedicate al mondo del bar, della caffetteria, della ristorazione. Per una scelta commerciale, qualche anno fa abbiamo interrotto i nostri rapporti con la grande distribuzione. È stata la nostra volontà, quella di far bene, di portare avanti un concetto di qualità, ma che lo portiamo avanti da sempre. Con quali prodotti poi adesso uscite con questo alto di gamma, possiamo definirlo, del caffè? Abbiamo ovviamente fatto un restyling da poco della linea Universal, che ci contraddistingue ormai da qualche anno con le nostre, noi chiamiamo le donne etniche, che è l'immagine che voi vedete nelle nostre buste di caffè piuttosto che nel nostro merchandising. Sono ovviamente donne o visi o modelle, ognuna di esse provenienti dai paesi di origine, quindi parliamo dei paesi dell'Africa, parliamo dal Brasile, dalla Columbia, dal Sudafrica. Le linee di caffè sono state ristilizzate nel packaging, i prodotti sono sempre quelli, abbiamo aggiunto dei nuovi prodotti, abbiamo creato una nuova linea gourmet. Le linee gourmet intendo dire sono non più blend, ma sono monorigine, quindi sono tutte 100% arabiche certificate e quindi prodotti di alta gamma. Non ultimo il discorso delle capsule, perché voi sapete bene che il mondo home office negli ultimi anni ha avuto una crescita esponenziale incredibile, ormai la Moga a casa non la adopera più nessuno e quindi ognuno ha la famosa macchina automatica, piccolina, più o meno grande. Anche in quello noi siamo estremamente presenti nell'aver creato una nuova linea di capsule compatibili Nespresso e Lavazza, che sono i grandi player del mercato. E poi non può mancare qualcosa che riporti un pochettino all'origine storica del nome di famiglia, è l'ultima nata in casa Universal Cafè, che è la linea Camiscia. Mi piace parlare della linea Camiscia, che è un altro brand della nostra azienda, ovviamente prende il nome dai fondatori della famiglia Camiscia, ma come vedete con linee estremamente nuove, innovative, con dei colori moderni, chiamiamoli così, siamo fieri di presentare la nuova gamma, che ovviamente è sempre rivolta al mercato orica e siamo convinti che ci darà anche delle belle soddisfazioni. Un approccio anche con l'estero molto forte. Siamo partiti ormai da oltre 30 anni, forse anche 35. Negli ultimi anni è diventato determinante, credo, per ogni azienda come la nostra. Noi forse abbiamo visto un po' prima degli altri che potevano essere mercati per l'espresso italiano, ovviamente, importanti. Oggi vendiamo in oltre 30 paesi nel mondo. Abbiamo una proposta commerciale un po' diversa, vorrei dire, non è semplicemente vendere un caffè, grazie anche alla nostra Academy, perché all'interno della nostra azienda dieci anni fa abbiamo creato un Academy che tendeva a fare formazione e cultura dell'espresso e anche dei prodotti collaterali all'espresso, quindi cappuccino, latte arte e quant'altro. Questa scuola oggi è un perno fondamentale della nostra azienda, perché grazie ad essa siamo a fianco ai nostri distributori, siamo a fianco anche ai nostri baristi, clienti finali, con la formazione, che noi riteniamo fondamentale. Il riscontro che maggiormente la gratifica dopo tanti anni di aziende e di direzione commerciale? Sicuramente il plauso da parte dei nostri clienti e da parte anche dei consumer, quindi clienti finali. Ho un buon caffè, è Universal Caffè, piace, abbiamo dei gusti giusti, le persone sono fedeli, e quindi questo chiaramente ci fa molto piacere.